I negozi al dettaglio di Taranto nella giornata di domenica resteranno chiusi perché l'amministrazione comunale è venuta meno agli impegni assunti in merito alle iniziative di promozione e comunicazione delle aperture domenicali di ottobre e novembre. I vertici provinciali di Commercio e Confesercenti confermano la decisione già presa e di fatto attaccano pesantemente il comune, non ritenendo accettabile la ridiscussione di accordi presi alla fine di un difficile e lungo percorso giudiziario. Ancora, l'invito lanciato dal sindaco Stefano alla cittadinanza di disertare lo shopping dell'Immacolata viene definito discutibile alla luce del periodo di crisi. Uno scontro vero e proprio che potrebbe essere risolto, dicono Commercio e Confesercenti, grazie ad un confronto più serrato con l'amministrazione che non vuole sottrarsi. Il vice sindaco Gianni Cataldino è pronto a raccogliere la proposta ma a patto si legge in una nota che ci sia la volontà di lavorare insieme, confrontando situazioni concrete. Le richieste dei commercianti, prosegue il vice sindaco, sono legittime ma non è accettabile il metodo utilizzato per attirare l'attenzione. Insomma, se non è guerra, poco ci manca.